La cabina di coordinamento Sisma presieduta dal commissario alla ricostruzione 2016 Guido Castelli ha annunciato un'importante iniezione di fondi per il rinnovamento di due istituti scolastici fondamentali per la comunità di Teramo. Si tratta di un incremento di oltre 4 milioni di euro che andrà a potenziare il plafond già stanziato per la ricostruzione post-Sisma. La scuola dell'infanzia Gemma Marconi, un istituto gestito dall'Aspuno, beneficerà di un aumento di contributo di circa 1,5 milioni di euro, raggiungendo un totale di 2,4 milioni. Questo finanziamento è destinato a coprire le spese per la demolizione e la successiva ricostruzione dell'edificio scolastico esistente, con l'obiettivo di realizzare una struttura che non solo rispetti i più alti standard di sicurezza, ma che sia anche energeticamente efficiente. Mentre la scuola dell'infanzia e primaria San Giuseppe, di proprietà del comune, vedrà un incremento di 2,6 milioni di euro, per un finanziamento complessivo di 6,7 milioni. Questi fondi saranno utilizzati per attuare miglioramenti strutturali e adeguamenti necessari per garantire la sicurezza sismica e l'efficienza energetica dell'edificio che è rimasto inagibile dal terremoto del 2016. Sulla San Giuseppe siamo già alla conclusione dell'iter, quindi siamo in fase di pubblicazione delle termine a contrarre. C'è già stata una interlocuzione con ANAC, abbiamo approvato da tempo il progetto esecutivo, quindi siamo in fase di avvio delle procedure di gara, come abbiamo sempre comunicato. E' chiaro che questo passaggio era decisivo perché avere l'intero contributo è fondamentale per poter far partire ovviamente l'intervento. E' un problema generale questo che riguarda tutto il cratere sismico, lo dico anche da rappresentante dell'intero cratere. Quello che abbiamo pagato tutti è stato proprio questo, cioè che i primi finanziamenti non erano ovviamente adeguati a quelle che erano le reali esigenze di intervento. Insomma su Teramo stiamo lavorando nella giusta direzione e con questo incremento di contributo finalmente si potrà partire con i lavori per la San Giuseppe.